Ma esistono anche reazioni redox in cui la specie che si ossida è anche la stessa che si riduce. Queste sono le reazioni di dismutazione. Vediamo in particolare l'esempio qui sotto. Abbiamo che due molecole di bromo reagiscono con quattro gruppi molecolari OH- in soluzione per darmi due ioni di bromo, uno meno, due ioni molecolari Br o meno e due molecole di H2O. Come vedete tra i prodotti abbiamo due distinti prodotti con il bromo. Andiamo a vedere cosa succede. Tra i reagenti il bromo è molecolare e quindi ha un numero di situazione pari a zero ma tra i prodotti lo possiamo trovare sia sotto forma ridotta quindi con un elettrone in più che lo fa diventare un ione Br o meno sia in forma ossidata, ovvero con un elettrone in meno che gli dà un numero di situazione pari a più uno e insieme all'ossigeno che è meno due crea una molecola ionica pari a Br o meno. Quindi in questa reazione chimica una parte del bromo che reagisce subisce riduzione l'altra parte subisce ossidazione e ovviamente queste due quantità di bromo che si riducono e ossidono si scambiano gli elettroni. Quindi, in parole povere, in questa reazione una molecola di bromo si divide in due atomi di bromo in cui uno si ossida e acquista un elettrone passando da Br0 a Br-1 e l'altro invece si riduce passando da Br0 a Br-1. Una reazione di dismutazione o disproporzionamento è una reazione redox in cui una stessa specie chimica si ossida e si riduce. Facciamo una esercitazione, stabilire chi tra le seguenti è una reazione redox oppure no. Per esempio, abbiamo questa reazione in cui il calcio in forma solida reagisce con una molecola di cloro in forma gassosa per darmi CaCl2. Allora, il calcio in forma solida ha numero di situazione pari a zero mentre qui, nel prodotto, per creare la molecola neutra ha numero di situazione pari a più due. Perché questo? Perché io so che, dalla tavola periodica, il calcio può avere numero di situazione zero o più due. Non ne ha altri. Mentre il cloro qui passa da numero di situazione pari a zero a meno uno e, visto che nella molecola ci sono due clori, meno uno per due fa meno due. Quindi io ho la molecola neutra CaCl2 in cui il calcio è più due e i due clori insieme costituiscono meno due. Quindi la molecola è neutra. Abbiamo che chi si riduce è il cloro perché acquisisce un elettrone che passa da zero a meno uno mentre chi si ossida il calcio che passa da zero a più due acquistando due elettroni. Vediamo questa attrazione chimica. Il cloruro di bario sciolto in soluzione reagisce con il carbonato di sodio anch'esso sciolto in soluzione per darmi il carbonato di bario in forma solida e il cloruro di sodio in soluzione. Vediamo che cosa succede. Sia prima che dopo il bario mantiene il suo numero di ossidazione, ovvero più due. E anche il cloro mantiene il suo numero di ossidazione prima e dopo la reazione chimica. Quindi il cloro nel cloruro di bario è meno uno nel cloro di sodio è sempre meno uno. Anche il sodio mantiene il suo numero di ossidazione che è più uno prima e rimane più uno dopo. Mentre lo ione carbonato, c'ho tre due meno, rimane tale sia prima che dopo la reazione chimica. In questa reazione chimica non abbiamo scambio di elettroni. Quindi questa non è una reazione redox o di ossido riduzione. Vi ricordo che l'unico modo che abbiamo per riconoscere una reazione redox è vedere se tra reagenti e prodotti c'è una modifica nel numero di ossidazione degli atomi che interagiscono tra loro. Quindi, capito questo, dobbiamo ora imparare a stabilire chi tra le seguenti reazioni redox è l'elemento ossidante e chi quello riducente. Abbiamo questa reazione dove il sodio tra reagenti ha un numero di ossidazione pari a zero e tra i prodotti pari a più uno quindi acquisisce un elettrone riducendosi e il cloro che tra i reagenti è in forma molecolare, quindi numero di ossidazione pari a zero che tra i prodotti invece diventa parte di una molecola che per rendere neutra deve acquisire il numero di ossidazione pari a meno uno. Quindi in questo caso acquisisce un elettrone subendo ossidazione. Un altro caso, abbiamo il calcio in forma solida che reagisce con due atomi di idrogeno ionizzato, quindi H+, sciolto in soluzione che mi produce tra i prodotti un calcio 2+, quindi il calcio passa da zero a 2+, cambia numero di ossidazione e un idrogeno molecolare con numero di ossidazione pari a zero. Allora l'idrogeno acquisisce un elettrone riducendosi, mentre il calcio perde due elettroni perché passa da zero a più 2. Anche questa è una reazione di ossidoriduzione e lo capiamo grazie al cambiamento dei numeri di ossidazione degli atomi che prendono parte. Questo è solamente un estratto della reazione completa sulle ossidoriduzioni. Nella lezione completa spiegheremo appunto che cosa sono le ossidoriduzioni e come avvengono, vedremo qual è e come si calcola il potenziale di una cella, che cos'è una cella gradvanica e poi ovviamente ci saranno anche molti esercizi svolti. Potete trovare tutta la lezione sulle reazioni redox e l'elettrochimica e l'intero corso di Chimica Facile sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie.